ciao a tutti ragazzi dal vostro bomber jimmyjf93 anche se peraltro è troppo grande che figura di merda ragazzi abbiamo la PS4 come ospite dobbiamo inserire questa vediamo allora tutta l'estate sono stato a smadonare dalla mattina alla sera perché io volevo registrare in contemporanea dai magari facevo un video di fifa e fare anche il video con la gama si ci siamo vabbè ci stanno le ignoranti ragazzi comunque la sono andata a comprare la sono andata a comprare adesso perché noi facciamo dei discorsi utili no? e tu mi guardi bello le discorse eh si possiamo inserire vediamo l'avendola come viene ragazzi dai ho ho ecco qua abbiamo tutto si ma l'adessivo non capisco dove dovrebbe mettere ma un'idea ce l'avrei comunque dove mettere l'adessivo ok allora vediamo leggere il libretto dell'istruzione ogni qual volta combi in mano a cosa si come possiamo vedere lo vedete no? nella prima schermata bisogna togliere il cavo della corrente si e se no non si può mettere peraltro è sempre ho preso anche il mouse da loro se no gravi ah già che mi fai male ecco ok vediamo come inserire sto congelato ragazzi allora metto la play in modo che non cada perché se cade è finito quindi questo dovrebbe andare così si dove poi non si sa quando non becchi il buco ragazzi è preoccupante è grave si è preoccupante non c'è tutto e tutto tutto normale da lì oh si si ecco qua ragazzi che abbiamo ah ci stiamo del pasto però orfeone bello è meglio vediamo terza istruzione attaccare il cavo ah cavo USB quindi per far funzionare il tutto cavo USB alla televisione no cavo USB nella presa dalla ventola alla televisione no alla play ma che cazzo e io i joystick dovevo abitare vabbè ehm se ci vorrebbe la double station ovvero che puoi caricare due joystick con demorani ma tutti gli accessori Sony porco mondo costano circa 25-30 euro ogni volta non puoi spendere questi software qua ok mi sembra piuttosto corto comunque mi trovo c'entrino non mi sembra ma come succede io da via perchè si mette e bella ventola come uscite la playstation per lato c'è lì ah sembrava molto più corto comunque l'ignoranza si l'ignoranza regno sempre ok dovremmo essere a posto quattro cosa c'è quattro possiamo accendere on si magari si adesso non è attaccata la luce vabbè alla corrente o alla luce si sennò spandiamo possiamo bruciare tutto ok benissimo ragazzi adesso proveremo la play speriamo che non faccia più rumore ma per lo più adesso che inizia la stagione delle calotte polari si si dove ci stanno gli orsi bianchi eh meno dieci meno cinque quindi la play non dovrebbe fare rumore più d'estate perché poverino si stanga anche come noi esseri umani quindi ragazzi ci becchiamo al prossimo video di fifa 16 e il formaggio draft mi sta dando ancora problemi e magari contatterò gli esports su un game admin e gliene diciamo quattro oppure due ragazzi ci becchiamo alla prossima se non è quando lasciate un like se vi piacete bene potete iscrivervi bella